Buongiorno amici, oggi ho deciso di fare una torta a gelato, ho comprato due vaschette di gelato, una busta di panna e il pan di spagna che ho fatto io e ho fatto una torta a gelato. Per il pan di spagna occorrono 3 uova, 2 bicchieri di zucchero, un bicchiere di lastre, un bicchiere d'olio di semi, una bustina lievito per doccia, una mezza fialetta al limone e una bustina di vanillina. Oltre le due vaschette di gelato ho fatto anche la bagna al rum, ho preso due bicchieri d'acqua, ho aggiunto un bicchiere di zucchero, l'ho portato a ebollizione, l'ho fatto raffreddare, l'ho messa nel biberon adatto per i dolci e ho versato una fialetta al rum. E questa è la bagna 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 al rum. E questa è il risultato. iscriviti al canale Grazie a tutti 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 Spero che questo video sia stato di vostro aggredimento Ciao al prossimo video Ciao amici Grazie a tutti